Dopo aver parlato a Rai 1, Filippo Dispenza, commissario prefettizio che guida la commissione straordinaria che amministra il Comune di Vittoria, è sparito dai radar. Lontano da microfoni e telecamere. Né per confrontarsi, non ha accolto il nostro invito in contraddittorio con l'ex sindaco Francesco Aiello, né per rilasciare qualunque dichiarazione che spiegasse il fondamento di quelle affermazioni che fanno ancora discutere. Ci sono 74 spazi, 74 cosiddetti box, mai assegnati legittimamente in oltre 40 anni e anche rinnovi sono stati fatti mai con un'evidenza pubblica. Quindi dobbiamo immaginare, mi perdoni se la interrompo, l'assegnazione dei box, quindi l'assegnazione del potere economico locale, veniva fatta secondo le famiglie, secondo la spartizione mafiosa del territorio. Esattamente, tra l'altro una cosa gravissima che rileva la relazione della Commissione d'Accesso, non venivano neanche effettuati i controlli agli ingressi del mercato, cose che poi abbiamo voluto ripristinare immediatamente, queste cose sono rimarcate pesantemente nella relazione della Commissione d'Accesso, formata da funzionari dello Stato, da funzionari di Polizia, dell'Arma dei Carabinieri, della Finanza, della DIA. Evidentemente nel mondo in cui abbiamo voluto ripristinare questi controlli abbiamo riscontrato la presenza di tanti personaggi che non avevano nessun diritto, nessun titolo, personaggi chiaramente pericolosi, con precedenti per 400 servizi in bis. Io non lo so perché non ho contatti con il mercato, non posso dire niente, posso solo dire lo Stato dov'è, punto interrogativo, che se c'è la mafia perché non c'è lo Stato, altrimenti non ci potrebbe essere mafia se c'è lo Stato e viceversa, secondo me, è una mia opinione. Diceva a Machiavelli che lo Stato dovrebbe essere mezza volpa e mezzo leone, non lo so oggi se lo Stato è mezza volpa o mezza leone, certo a mio avviso se eliminassero la corruzione e la concussione l'Italia sarebbe il paese più bello del mondo e più ricco del mondo. Io sono un ex lavoratore del mercato ortofrutticolo di Vittoria e da parte mia non ho mai visto questa mafia, non siamo un paese di mafiosi, noi ci stanno buttando del fango addosso ai vittoriesi e alla città di Vittoria, con tutti questi argomenti che portano questi signori che ci fanno dei famosi e dei mafiosi, cosa che noi non siamo e pregherei questi amministratori di far sì che questa città migliore, non che allo sbando totale, in merito ai commissari. L'ennesima cosa che distrugge il nostro paese, questa è una delle ultime cose per dare il colpo di grazia a noi, al nostro paese. La mafia, per quanto mi riguarda, la devono andare a cercare da altre parti, signora. La delinquenza comune quella c'è, c'è da tutte le parti, però parlare di mafia, signora, mi sembra esagerato. Andare a riprendere cose di 40 anni fa sono soltanto dannose per la nostra economia, per noi che abbiamo delle attività. Mi è andata a fine che siamo sulla bocca di tutta l'Italia, senza un motivo specifico. La delinquenza ave, da quando noi siamo entrati in questa terra c'è la delinquenza, secoli, miliardi di secoli, milioni di secoli. Perciò è inutile, non si può star fare la delinquenza, perché è prepotente, perché praticamente è contro la natura. Io c'è una natura e chi non c'è un'altra? E si contrapigliano, e chi sei a delinquenza? I mafiosi non sono la vittoria, sono al mercato e al palazzo Iacono, perché i contadini lavorano e si fanno un culo così, devo dire così, per guadagnare un pezzo di pane, ma non è possibile, perché hanno debito e non guadagno niente. Al mercato si vende la roba e camminano ferrare, posce, baccane grosse, come si spiega, e non mettono niente, solo la faccia mettono. I contadini mettono lo stomaco e mettono tutto.